Musica Sul popolo della libertà e visto che abbiamo anche in studio un esponente del PDL, capogruppo di questo partito in consiglio regionale, Marco Melgrati, buongiorno. Buongiorno. Allora intanto come commenta queste ultime dichiarazioni di Pastorino, diamo una spallata a questi 20 anni di malgoverno. Sì ha ragione Pastorino, anche perché in questi 20 anni di malgoverno hanno governato anche loro del PD e quindi sarebbe bene dare una spallata a questi 20 anni di malgoverno, che poi voglio dire malgoverno relativo diciamo. E comunque mi stupisce che Pastorino dica alcune cose che abbiamo sentito tutti, cioè dice che oggi il PD deve andare al voto perché il PDL è in difficoltà. Voglio dire, ma Pastorino vive anche lui nel mondo di frutta candita come i nostri amministratori regionali o vive nel mondo reale, dove oggi sul giornale leggiamo che il segretario del PD stronca Renzi a favore di Letta. Voglio dire, non lo so chi è che stia peggio tra noi e loro, noi sicuramente non stiamo bene nel senso che c'è una componente minoritaria del partito che fa da stampella a questo governo per il mantenimento delle poltrone. Questo è un dato di fatto e pugnalando alle spalle quello che è il nostro leader nazionale, cioè Silvio Berlusconi. La mia posizione è una posizione dura, è una posizione personale, ma sicuramente è una posizione che rispecchia anche quello che è il pensiero della maggior parte dell'elettorato di centrodestra. Io credo che se, come dice Berlusconi, se questa posizione di Alfano dovesse in qualche maniera prevalere e se Alfano andasse la scissione, si andrebbe sicuramente a uno zero virgola per questa componente come è successo per Fini. 15 giorni di notorietà, l'ha detto bene Berlusconi, e poi finita l'esilio politico. Ecco, il 16 novembre però è una data importante per il Popolo della Libertà perché si farà un po' la resa dei conti. Lei che cosa si aspetta da quella giornata? Io non mi aspetto niente di particolare se non la conferma di quello che è l'anticipazione, cioè che il 75% del partito ha firmato un documento e molti non l'hanno firmato, l'avrebbero firmato comunque, penso a qualcuno nella nostra regione perché pensavano che firmando questo documento si firmasse a favore di o contro qualcuno. Mentre invece non era così, nel senso era il documento proposto dalla direzione politica nazionale per il nostro leader Silvio Berlusconi. Io credo che una volta sul campo, cioè nella riunione di Roma, ci sarà molta più gente di quel 75, 76, 77% che firmerà questo documento, che voterà questo documento a quel punto lì per gli scissionisti, diciamo così, non resterà che abbassare le orecchie e ritornare tranquilli nell'alveo della tradizione del centro-destra perché se no sparirebbero come è sparito Gianfranco Fini a suo tempo. A fine mese si voterà per la decadenza dalla carica di senatore di Berlusconi. C'è chi dice, sembra di parlare un po' di bookmaker, c'è chi dice che al 90% ci sarà questa decadenza, si voterà dunque per il sì. Secondo lei come andrà a finire? Io sono convinto che ci sarà la decadenza di Silvio Berlusconi, ne sono convinto perché la sinistra ha un'occasione storica di far fuori il leader politico, o di tentare di far fuori il leader politico del centro-destra dalla scena politica nazionale o perlomeno crede, pensa di far fuori il leader politico, chiaramente col supporto della magistratura che ha fatto una sentenza assolutamente incredibile, anche perché lo vogliamo ricordare e lo ricorderemo sempre che altre due sezioni della Corte di Cassazione hanno giudicato Silvio Berlusconi innocente per questo stesso reato. Quindi incredibile che in Italia uno possa essere in qualche maniera chiamato a giudizio per tre volte sullo stesso reato per due volte viene assolto e una volta condannato. Quindi è assolutamente incredibile. Quello che non è riuscito a fare la politica con il voto democratico è riuscito attraverso la magistratura con la legge Severino o l'interpretazione sulla non retroattività, sulla retroattività della legge Severino e quindi con il supporto della magistratura è riuscito a, sta riuscendo al PD e riuscirà sicuramente con il supporto dei Cinque Stelle che sono giustizialisti, chiaramente insieme a quelli del PD. Melgrati, 30 secondi per una parola, una dichiarazione che Pippo Civati, uno dei candidati alla segreteria nazionale del PD ha rilasciato in un'intervista al Decimo Nono dicendo il sistema Burlando non funziona più, quello delle larghe intese. Secondo lei? Ma il sistema Burlando non ha mai funzionato. Noi siamo dall'inizio della legislatura che sosteniamo che questa coalizione con la quale Burlando ha vinto le elezioni è una coalizione contro natura perché non si può mettere insieme i democratici cristiani eredi della democrazia cristiana dell'Udc con quelli che mangiano i bambini di selle di rifondazione comunista, voglio dire è una contraddizione in termini e lo vediamo in tutti i provvedimenti di legge che vengono portati in commissione prima e in consiglio dopo. Si arriva sempre a delle leggi che sono una sintesi ma sono una sintesi pessima perché devono mediare tra una situazione di un certo tipo della componente centrista e l'altra componente dell'ultrasinistra radicale. Pessime veramente, è una situazione che fa fatica a stare in piedi. Grazie a Marco Melgrati, capogruppo del Popolo della Libertà in Consiglio regionale. Io vi auguro buon proseguimento di giornata, come sempre restate con noi su TGN.